Rafa Nadal, il gladiatore della terra battuta, è combattuto. All'indomani dell'impresa, che l'ha visto trionfare a Roland Garros contro Ruud, il mallorchino, 22 volte campione slam e 14 Open di Francia nel suo palmarès, continua ad avere fame di trofei, ma lo stato di salute del suo piede sinistro lo costringe a mettere in dubbio la sua presenza a Wimbledon. Wimbledon è una priorità, lo è sempre stato. Se posso giocare con gli antinfiammatori, sì. Se devo farlo con le iniezioni di anestetico, no. Non voglio mettermi di nuovo in questa situazione. Può succedere una volta, ma no, non è una filosofia di vita che voglio seguire. Visibilmente zoppicante, dopo la battaglia di Parigi, Nadal ha dichiarato di volersi sottoporre a un trattamento speciale che possa evitargli il ricorso alle infiltrazioni di anestetizzanti per evitare il dolore. Ma a poche ore dall'epica vittoria al Roland Garros è stato soprattutto il momento di celebrare il successo con le foto di rito con lo sfondo della Seine e della Tour Eiffel sul ponte Alessandro III. Un'occasione per alzare, ancora una volta, la quattordicesima, la Coupe de Mosqueterre a Parigi.